ciao a tutti e benvenuti in questo non speciale di natale perché non speciale perché signora fasto e ben ancora non mi ha dato la connessione avrei avuto qualche idea interessante e voluto fare una sorta di speciale poi siamo quasi a 200 iscritti per cui poteva essere anche una commissione delle due cose e la mia idea era quella di creare una specie di questionario di survey online dove farvi scegliere una serie secondaria che avrei potuto giocare e quello sarebbe stato il mio regalo a voi nel senso la maggioranza dei voti sarà andata magari su x gioco e avrei fatto quella serie come serie secondaria stante fatto che dragon age si continua e che al 30 gennaio si farà dying light questo non si schioda però intanto come potete vedere neanche l'ho nominato in questo video mi sto facendo vedere nella non ho una webcam perché la mia ragazza comunque non ha ancora comprato la webcam perché trovavo solo una 720p invece che la 1080 e gli ho detto no se devi stare 720 non mi piace quindi se no vedete adesso sto usando il mio fidato nexus 7 con la sua 1080p posteriore mi aiuta un calcio in bocca perché mi sto facendo vedere non lo so perché avrei voluto fare un video carino montaggi foto qualsiasi altra cosa peccato che non avendoci internet è tutto molto complicato però posso dare un tocco natalizio oltre con questo maglione rosso che non è così casuale con una renna che questo è il biglietto d'auguri che metterò mia sorella chissà se è a fuoco una telecamera questa boh e con dei consigli per gli acquisti la mia lettura attuale going postal rigorosamente in lingua originale comunque terry pratchett per gli amanti del fantasy se non lo conosceste è un grande autore bene finito questo angolo merdoso natalizio quello che volevo dire in pratica è la mia idea appunto è fare questa specie di questionario dove metterò un elenco di giochi e vorrei anche dare la possibilità a voi di suggerirmi dei giochi magari da inserire o qualche special che vi entusiasma particolarmente quindi io adesso visto che non ho internet non posso fare il questionario non posso seguire niente già questo video non ci metterà un'eternità a caricarsi quello che vi chiedo intanto nei commenti se volete inizia da suggerire giochi che potranno essere inseriti in questo questionario da mettere poi online in pubblico e vedere poi che giochi verranno estratti estratti non è la lotteria in base ai voti vostri però ci siamo capiti per chiudere quindi ricordatevi commenti diteci che giochi vorreste vedere sul canale ve la butto la visto che molte persone che mi seguono magari appunto non hanno aggiornamenti su quanto posto video se ho problemi perché se ho problemi è difficile postare video che lo spieghino magari registratevi mettete un like su facebook twitter e basta google plus chi lo usa ci sto anche la però poi inutile non me ne voglia male mamma google e mamma youtube italia detto ciò io intanto colgo questa occasione per farvi auguri di buon natale e immagino anche felice anno nuovo non so quali buoni propositi avrete per il futuro anno io ce ne ho qualcuno ma come tutti gli anni probabilmente andrà a farsi benedire e ci vediamo al prossimo video